Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Excel Magico numero 53 oggi vediamo un bel trucchetto veloce veloce con la funzione cerca una funzione che si conferma molto utile per estrarre quello che è l'ultimo valore di un intervallo di celle il valore potrebbe essere un numero piuttosto che un testo oggi andremo a lavorare con delle condizioni per cui un livello un po' più avanzato rispetto a quello che abbiamo visto nel video precedente Excel Magico numero 52 che comunque vi invito ad andarvelo a vedere qualora non l'aveste ancora visto in modo tale che diventa sempre più comprensibile quello che facciamo oggi dunque vedremo i vantaggi e gli svantaggi della funzione cerca ma vediamo cosa abbiamo qua oggi, qua abbiamo un database che è disposto orizzontalmente qua abbiamo delle righe che sono dominate con un colore e qui dobbiamo fare delle formule che in base al colore mi istituisce quello che è l'ultimo numero in questa riga qua ad esempio qui l'ultimo numero è 12, come potete vedere il numero 12 si conferma nella riga del rosso ok? 254 è la riga del viola, vedete? 254 se dovessi mettere un test per dire non mi funziona perché ho scelto di farlo solamente con i numeri ok? per cui non funziona in questo caso qua con i testi ma non sarebbe poi difficile farlo fare anche con i testi ok? quello che andremo a fare oggi il vero nodo che dobbiamo sciogliere è come andare a scegliere il numero di riga in base alla condizione ok? cancelliamo tutto e vedete che facciamo tutto con la funzione cerca la funzione cerca si conferma una funzione molto importante a mio avviso anche molto più importante del cerchio verticale perché è molto dinamica e non importa se i dati sono disposti orizzontalmente, verticalmente o incrociati è una funzione che sopporta le matrici e non dobbiamo fare CTRL SHIFT ENTER un altro vantaggio è che mi ignora quelli che sono gli errori all'interno questa non è una cosa di poco conto come abbiamo visto nel video precedente però c'è un grosso svantaggio qual è lo svantaggio? è che lui cerca sempre con corrispondenza approssimativa per cui per default lui sceglie solamente di fare la corrispondenza approssimativa non come ad esempio il cerchio verticale o il confronta che possiamo scegliere diciamo in maniera o approssimativa o esatta questo cosa comporta? comporta il fatto che i numeri dobbiamo mettere sempre in maniera diciamo ordinati dal più piccolo al più grande o dal più grande al più piccolo oppure se sono dei testi dobbiamo metterli sempre in ordine alfabetico non è una cosa di poco conto perché appunto nell'argomento vettore come potete vedere qua diciamo, ripeto, che dobbiamo essere sempre ordinati dal più piccolo al più grande o in ordine alfabetico però questo svantaggio qua, guarda caso per quello che dobbiamo fare oggi noi è diciamo un vantaggio per noi perché lui cosa fa? dato che lui cerca dei numeri che sono ordinati e quando li trovi e dato che noi metteremo un numero più grande di tutti quelli che ci sono qua dentro ovviamente non cercando, lui di default mi dà sempre l'ultimo numero, ok? per cui, il valore mettiamo un numero gigantesco possiamo mettere un numero, non so, 100 milioni poi dipende da quali numeri avete voi oppure possiamo mettere nel dubbio un numero più grande che ci sia 9,9999 e più 307 questo qua è un numero scientifico e il più grande che Excel possa conoscere, ok? per cui nel dubbio, se voi non sapete qual è potrebbe essere il numero più grande scrivete questo numero qua e il gioco è fatto facendo punto e virgola, vado all'argomento successivo il vettore, ecco qua è il vero nodo rispetto a quello che abbiamo visto nel video precedente perché il vettore, cioè la matrice dobbiamo scegliere qual è la matrice per cui la matrice è rosso, verde, blu per cui quando siamo qua voglio che mi istituisci il rosso quando siamo qua voglio che mi istituisci il verde quando siamo qua eccetera 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 per cui devo scegliere qual è la riga come faccio a farlo? lo faccio guarda caso con la funzione scegli neanche a dirlo e mi permette di scegliere il numero di riga ecco, la funzione scegli al suo interno ha un argomento che si chiama indice questo argomento qua ha bisogno di un numero, ok? un numero che io adesso lo scrivo manualmente ma ovviamente deve essere generato in maniera automatica e dinamica e lo faccio con la funzione confronta che guarda caso mi istituisce il numero di posizione relativa in base a quello che è un valore il valore in questo caso qua è rosso ecco qui faccio bene attenzione a dare i riferimenti di cella gli do un f4 due volte lo blocco sulle righe perché non mi interessa che vada giù però mi interessa che vada verso destra per cui non lo blocco sulle colonne facendo punti e vigola il secondo argomento mi chiede la matrice come vedete qua dello skin tip la matrice ovviamente è questa qua perché il valore sarà 1, 2, 3 o 4 gli do un f4 in questo caso qua tre volte cioè blocco sulle colonne e non sulle righe ok? punto e vigola ecco qua è molto importante la corrispondenza esatta perché non sono numeri ordinati ma sono semplicemente dei nomi ok? dei testi diciamo chiudo la parentesi ecco chiudendo la parentesi potete vedere che siamo tornati ancora nella funzione scegli e vediamo cosa mi ha dato come indice il confronto in questo caso qua facendo F9 potete vedere che mi dà diciamo l'indice numero 1 perché il rosso ovviamente è il numero 1 ok? ovviamente quando sarò qua mi darà il 2, 3, 4 eccetera eccetera ecco a questo punto qua avendo fatto l'indice lo sceglie bisogno del valore per cui se abbiamo diciamo l'indice numero 1 quale sarà il valore numero 1? sarà questo qua F4 quale sarà il valore numero 2? sarà questo qua F4 punto e vigola il valore numero 3 F4 punto e vigola e il valore numero 4 ecco qua io guardo sempre lo scintip ecco in questo caso qua diamo l'F4 finale chiudo la parentesi ecco chiudendo la parentesi siamo rimbalzati in quello che la funzione cerca e tutto questo qua è il vettore cioè la matrice facendo F9 vedete che abbiamo una matrice tra la parentesi granfa delimitata diciamo dai black stash vuol dire che startiamo da una colonna e l'altra e qua ctrl z per non codificare chiudiamo l'ultima parentesi ecco non abbiamo bisogno dell'ultimo argomento che è facoltativo che è il risultato che è messo tra parentesi quadra chiudo la parentesi ok? avendo chiuso la parentesi e l'ultima parentesi con la nera facciamo ctrl enter e ci trasciniamo verso destra ok? facciamo un test se qua scrivo non so un numero a caso vedete che mi da 1247 1247 qua se scrivo non so un test vediamo se me lo prende il test non me lo prende però se scrivo qua un numero me lo prende ok? era un truccato veloce veloce che comunque ci insegna ci fa avere sempre più dimestichezza con le formule di Excel e comunque siamo arrivati alla parte finale del video grazie per aver visto questo video fino alla fine se vi piace come al solito potete cliccare mi piace se non vi siete iscritti qua sotto c'è il tasto rosso iscriviti i commenti le domande eccetera eccetera sono sempre gradite grazie ragazzi e alla prossima